Musica 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 Negozio per cui io mi metto in copertura e mi metto Non ti preoccupare Non ti preoccupare Sottolineo l'importanza vitale di salvaguardare Ma posso evitare questa troia che parla No Ma votati Ci è sopravvissuto agli anticorpi che mi servono Per poter sperare Devo abbassare il volume di sta puttana Perchè me ne sarò metto il cazzo Si domanda Voi che abilità avete su? Quelle di cura Si parte Che abilità hai su? Ha detto scusatemi Quindi vuol dire che ha Bost Che cosa faccio? Anche io voglio unirmi con voi Ok Buon mattino, buon pomeriggio, buona sera, buon notte Dipende da guardare questo video Siamo qui su The Division insieme con Sarmatex e con Mr.Dyric Il problema è che Mr. Sta lavorando quindi se ha qualche Qualcuno che gli arriva dentro in Il negozio deve dire scusate un attimo E sono qui con Sarmatex Quindi moriremo di brutto Eh no, perchè no In frattempo io sto cercando Ma non farei cretino cazzo Ma no aspetta un attimo Che intanto bisogna che mi decambi l'abilità Che sei il nostro medico personale Io mi piazzo praticamente di spotter Ecco Quindi ci cominciamo a sparare Eh ma aspetta un attimo Ma organizziamoci prima Non fate un golpe Organizziamoci, facciamo le fare intelligenti Le partenze intelligenti Esatto, esatto, esatto Ok, c'è un po' di gente Eh la vedo, allora bisogna concentrarsi su qualcuno Signora Signora ma dove cazzo va? Vabbè Ma infatti qua c'è Sarà una guerra tale Lei tranquilla Si, si, si Allora io sottomira Uno di quelli con le bombe Se mi dici che devo tirar giù Tiro giù Va bene Infatti io mi avvicino un attimo Dimmi tu starti Io comincio Mmmmm Vai parti Giù Eccomi scusatemi ragazzi Eccolo Ok, farmi con le bombe Devo tirarle giù Ok, allora farmi Arrivo a darvi il supporto di là Boia Cancaro Cancaro Occhio, 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 occhio Boia, can Ok, questo è giù Sta arrivando un altro Ok, è giù Perfetto Minchia, ma con tre colpi voi li stendete Porca troia, c'è un fucile che toglie duemila e passa Cosa sta roba qua? Altra gente Aiuto, 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 aiuto Oh, io ho preso fuoco quando non so fu da dove Eccolo I pezzettini di cacca pelosa La cacca pelusa Ma basta, continua a premere il tasto sbagliato Occhio Occhio, vale le bestia Beccati questo Beccati Bruta bestia pelosa Andiamo un attimo Ma perché arriva tutta sta gente così? Vocca boia, voca boia via, via 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 via, aiuto 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 Carica, 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 carica No, via, via Ok Sono giù, perfetto No, mi sono preso in fiamme ma sono un cuore Ok, andiamo avanti Vai mister, pusha, pusha, mister, pusha Ah bene, allora, vediamo, un attimo Occhio, via Ok, io come abilità ho la prima che cura e la bomba appiccicosa Ok, ottimo Io c'ho la torretta e il radar Io c'ho quella che cura e la torretta Occhio, occhio, occhio Ah, ti pareva Ancora Eh, mi sono È Mugia È il Mugia Mugia, mi devi scusare ma sono con Elen, Tress, Armate Devi di unirsi, abbiamo un posto in più, abbiamo un posto in più se si unisce Ci sentiamo fra poco Ciao, bello No, fa un culo, fa un culo Mamma che male Ma sono Che sta da fare Eh, niente, sta, Elen ti probabilmente sta disinnescando le trappole Poi Sì, ma è stato disegregato col mio corpo C'è le testa lui Proprio di piena faccia Proprio di cattiveria Ok Ok Ma ti bacco Bella, bravo, bravo Elen Bravo, bravo No, no, ma ce le sta trovando fuori tutte lui È un cane da tartufo Va, va, che robo, va, che robo Va, che robo, va, che robo No, ma tranquillo, Elen, non aspettare un attimo che ci organizziamo No, ma perché? È tanto bello andare davanti a riusciare Proprio pesantemente Ok, ok, ok Ai, 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 ai Hai di torretta Torretta, fai il tuo lavoro Ma puttana, c'è la troia Ma dove sono, sti tace di turno? Ma perché esplode tutto senza senso? Oh Le torrette sono utili, di te? Molto Molto, molto Sia per, contro i bot che anche per i player sulla darkzone Esattamente quella che c'è è l'arte di arti elettrici Che stordisce momentaneamente l'avversario Quindi anche se è un player davanti Te fotte Segal, anzi, qui l'ha stordito e gli do massacri Ok, vediamo un attimo E allora me la piglio pure io Un attimo che metto il fucile del cecchino così becco direttamente Dove devo beccare No, col cazzo, sono dietro lì Fermo lì, Sir Non ti muovere, Sir Matex Fermo non ti muovere Non ti muovere, non ti muovere Fermo non ti muovere, 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 non ti muovere Non ti muovere, non ti muovere, non ti muovere, non ti muovere Non mi sta muovendo No Maleditto Quel piccolo mister è arrivato Ma vai a cagare Ma non sei buono, ma è la vecchiaia Guarda, non le manco ucciso Ma che cazzo dici, l'ho ucciso sì Ma quello corre Come corre, mi scappa la cacca, mi scappa la cacca, la cacca La cacca pelusa, vorrei dire Ma la cacca pelusa è schifo in una maniera proprio Perché c'è una trappola dappertutto qua Chi è che deve lanciare quello a fare, quello che... Chi è che si deve lanciare per far scoppiare le trappole? Io Vai Ele Vai avanti Ma il checkpoint è ancora di qua Solo che Ele vai avanti, dai avanti Il nostro disinnescatore Bravo Bravo Anche tutti abbiamo preso fuoco qua Eh cazzo mi mandate avanti Io vo' avanti Eh, non scherzo Ma te ti devi fermare però quando arrivi la rampa Eh che cazzo Carmi Ma ti ho detto fermo? Che cazzo Quello è scoppiato Gli è fatto malissimo Poverino Ma questo che cazzo è? Ma chi cazzo ti spara? Quello è un purcus per caso Ma chi ti spara? Ok, occhio Ma c'è un modo di Ok, indagiamo Ok, qua ci sono i rifornimenti Che vi servono Oh, occhio ci sono ingegneri Non ti preoccupare che Che pensimi Vabbè, è proprio un massacro di torrete Via, via, via Eh, vacca, eh, vacca Come è morto male Ne arrivano ancora Amici Amici, venite qui, amici Ciao, palla bomba Ciappa la bomba Ciappa la gallina Perché giustamente un eroe Parleva proprio così Quando si sta perciò a qualcuno Ciappa Merda E poi lo offende Ok, altro giro, altra cosa Altro scoppio Vai Scappumpete Ok Vai Dai, metti la destulina Faccia di scroto Ciappa la gallina Ciappa la gallina Ciappa la gallina Cocco Vacalea Non sentivo sta canzone da quando ero bambino Sembra di essere ritornato in un villaggio turistico Sì, infatti, guarda, infatti Fra quelle delle ragazze di Cowboy Non so quale siamo messi Ok Fammi caricare il fucile No, l'ho già caricato Perfetto, perfetto Oh, Sir Matex Non ti fermare Così, Cristo Perché è un tamponamento Che poi se ti tampono ti lamenti anche Checkpoint, ok Checkpoint Oh, cosa c'è qua Cerca Trovato un culo L, mi sa che c'è qualcosa anche lì dentro In quella cassa Ma cosa sono questi proiettili incendiari? Non lo so, stavano nostri Allora Parriete, farò più danni Occhio, occhio Ma qua è una caghetta Allora, fermi di momento Guarda che bello Guarda che bello La torretta Voglio buttare la torretta Tutti li becco Tutti Puttana la vacca Quello che è rimasto incastrato lì Nel cassone Che si prende Le mitragliate Da tutte e due Le torrette Poverito Fa un po' pene Quanto cazzo sparo Le torrette che non vedo Eh, perché ce n'è un tizio là Lo sto beccando C'era Ma no, c'era anche quello Da far saltare Non l'ho neanche fatto saltare No, non ti preoccupare Sono tutti a... Occhio, guardate dall'altro lato là Poi dall'altro lato Arrivo, 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 arrivo Boyacan, boyacan Ok, uno è andato Scabumpete Vediamo Questa qua Soli di scendi camera Ale Fondine che palle Ste cazzo di fondine Vuoi i guanti Vuoi i guanti? Però non di solito Le ginocchiere Le ginocchiere Le ginocchiere Le ginocchiere Maia ma porca Troia Bravo, grazie Perché spari così Alla cazzo Spari in punti Precisi Comunque Ok, allora Fammo questa Qua un punto un po' cieco Piano Piano Un momento Merda Grazie Forza Agente Ok E vacca Fermo Ok E la pepola Ok Giù Giù Cazzo Vai Giù Giù Cazzo Vai Ok Andato E lo esplode Scabumpete Sciamole E dopo questa esplosione Ancora mi chiedo Come fai a esserti un po' In mezzo In questo posto Cazzo 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 Io Io Occhio Tensù Dai in fondo Vaca Lergia Vaca Lea Quella puttina Torretta La Turet Occhio Non ci vedo Un Un Oh Avessi beccato Un colpo Cazzo Sono Bala C'ho una mira Guglielmo Tell mi fa una pipa Che cazzo Di aria Ok Questo è giù Sì Sì La riceviamo Dottoressa La riceviamo Vadi Vadi Ottimo Ok Cazzo Del turno di dati Oh mio dio L te la ricordi Staparte Oddio ma sono Al livello 10 Oh si cazzo Occhio Occhio Quella Staparte Tante di quelle Bestemmie Solita Tattica Andiamo su di sopra No Ma comunque Guarda Mister Sali molto in fretta Perché comunque I bot sono Molto più forti Essendoci Io e L Di livello Più alto Quindi la fine Livelli Comunitane Ok Allora Dimmi tu quando cominciamo Quelle torrette Prima cosa Contro i granatieri Vai Lancia torretta Torretta Via Ok E giù Quanto guardo Di sotto Io se arrivo a qualcuno Vediamo un po' Guarda Giusto Giusto Ecco Occhio Che fa scabum Io ci penso Qua Mastro lindo Adonna La gente Che sta arrivando Vi metto giù Una Una cura Ah ma questa Era quella Buggata Te la ricordi Ah Che c'era La gente Di sotto Vero Ok Ramos Lì è morto E vacca Puttana Ok Un altro Giù Scabumpete Arrivo Un oggetto Un oggetto blu Che bello E vacca Ok Prima Prima che si buggano Ma si armate Perché vai in giro Ah Repetone Me lo posso Ok Ok Tutti morti Ottimo In simpatia In simpatia In simpatia Tutta finita Non è vero Ciabba Ciabba su Allora Un oggetto Blu Si Uè 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 Ma aspettatemi Quello Facciamo Uè Da soli Falbo Ma perché Sarmatex Corre Facendo Ginnastica Cazzo Ancora No Corre Facendo Ginnastica Bellissimo Ma è finita No Si Eh Quasi Ok Guardate fuori Che bello Un bel camion Una bella cisterna Ciao cisterna Come stai Oh Sono mati Ok Completata Sono completata Ok Ascoltami un attimo Ma voi in caso Sir Che andiamo a fare Una missione Per Livello nostro Che tireremo su Un po' più di Oxp Al Il mister Dove fare Però Dovrei anche andare Io Ah Deve andare Che gaio Che gaio Marinaio Vabbè Vabbè ragazzi Io Spero che il video Vi sia piaciuto Sti qua Non sono fatto Casino come al solito E ci vediamo Al prossimo video Ricordatevi di iscrivervi al canale Vi metterò il link Logicamente al canale Sermatex e Dimmi Stradare Come ne avessero bisogno In realtà Non ne hanno proprio bisogno Ma io ve ne metto Lo stesso E iscrivetevi al canale Ciao ragazzi E basta E saludate a casa Basta Ciao ragazzi Ciao ragazzi